Sarebbero dovuti servire per rendere meno pesanti quelle 3-4 ore che i pazienti oncologici trascorrono sulle poltrone nella sala per il trattamento di chemioterapia. Ed invece 7 televisori sono stati avvilmente rubati stanotte nel reparto di oncologia del Policlinico di Palermo. Non si tratta del primo caso, l'ultimo in ordine di tempo circa 3 mesi fa, ma quel giorno fortunatamente i ladri non avevano portato via nulla. A Natale invece era stato rubato un televisore, furti che dunque sono diventati troppo ricorrenti e che avrebbero fatto ritenere giusto al personale di isolare il reparto in maniera tale da scoraggiare possibili ladri che non si fermano davanti a nulla e pur di racimolare qualche euro sono disposti a rubare a chi il destino purtroppo ha già tolto tanto.